Un muro pericolante, una cappella che è transenata perché rischia il crollo, una situazione di degrado al cimitero di Rotofreno che siete stati voi a segnalarci. Ecco allora le immagini che urtano la sensibilità di molti. L'SOS per il Campo Santo è arrivato a contributi web chiocciolaliberta.it, l'indirizzo mail della sezione online tucronista del sito www.liberta.it. Siamo quindi andati a verificare con le nostre telecamere e la situazione che abbiamo riscontrato è preoccupante. Un'area è pericolante, a delimitarla ci sono transenne mentre a supportarla ci sono dei pilastri. Nei muri sono visibili molte crepe e ad accogliere i visitatori uno scenario desolante con alcune tombe di velte. A riguardo abbiamo interpellato il sindaco al corrente da tempo della situazione. La cappella pericolante è stata messa al sicuro con i pilastri ma mancano i soldi per l'intervento. Sì in realtà è una situazione nota da tempo, c'è una cappella che effettivamente è ammalorata e capisco che dal punto di vista del decoro soprattutto nell'imminenza della festività dei defunti possa essere sicuramente sgradevole. Quello che abbiamo provveduto a fare è sostanzialmente mettere in sicurezza questa situazione che quindi è esteticamente poco gradevole, a livello statico non crea nessun tipo di problema. È un investimento che faremo, purtroppo il progetto richiede degli scavi e la realizzazione di sottofondazioni quindi è un progetto anche operativamente complesso. Appena ne avremo la disponibilità è un'opera che è sicuramente tra quelle da considerare come obbligatoria da realizzarsi. Abbiamo in questo momento dato per scelta, forse anche deprecabile, ma in preferenza ai vivi, alle scuole e ad altre cose piuttosto che non alla risistemazione estetica e strutturale di un angolo del cimitero di rottofreno.